Ciao a tutti da Valter, ben trovati in questo nuovo video dove vi aggiorno in maniera molto veloce sul patch rilasciato oggi 8 aprile appunto per Anthem che riguarda due cose principali ossia la riduzione delle probabilità di ottenere equipaggiamente per gli strali che non stiamo utilizzando e la seconda che riguarda i forzi dell'Elysia, ossia quello di poter vedere subito dopo aver terminato una rocaforte quello che abbiamo trovato appunto all'interno della nostra cassa Elysia. Per quanto riguarda gli equipaggiamenti ho giocato a quattro rocaforti e ho trovato tutto esclusivamente per lo strale che ho utilizzato, quindi nel mio caso il guardiano, quindi nessun tipo di equipaggiamento o di componentistica che poteva interessare gli altri tre tipi di strali. Per quanto riguarda i forzi dell'Elysia, anche questa pace funziona perché alla fine della rocaforte ho potuto vedere tramite la fucina immediatamente quello che sono riuscito a droppare, cosa che prima non accadeva perché dovevamo per forza di cose giocare una missione aggiuntiva e poi dopo andare in fucina e vedere quello che trovevamo appunto dopo aver aperto il forziere Elysia. Con questo è tutto, quindi la patch sembrerebbe che funziona, spero che non ci regali qualche brutta sorpresa, con questo è tutto e ciao a tutti! Grazie! Grazie!